Oh, ecco la mia ultima ossessione. Vieni. Sono fuori. Niente male come ero ucciso, eh amico! Wow. Direi di metterci anche questo. Mettiamo anche questo. E per finire mettiamo questo. Cazzo! Ma non stavo mica correndo, eh. Stavo andando abbastanza piano io. Ma non ho fatto niente. Affano. Salvami. Sto impazzendo. Forse sono già pazza o sto per diventarlo. Scusa, paneggio. Devo uscire. Ci vediamo. Non accetto rifiuti. Ti conviene esserci. Io non ho rifiuto però prima devo seminare la polizia. Troppo sicuro. Quale sarà tutti? Non ce n'è. Chiaro. E chi l'ha detto? Ehi. Forza Emi dammi una mano. Io un po' lo amo e un po' l'odio. Cioè mi fa star male sentire che rimbalza sull'imitatore. Ma... ma... Mi emoziono anche quando la faccio scivolare al punto perfetto. Ti chiamo, ok? Ok. Ti metto in contatto con la scena locale. Va bene. Ehi. Sì, hai ragione. Oh oh. Non ne so veramente un tubo di biglietto. Com'era questo? Era buono? Ho capito il tuo gioco. Se sei così sicuro perché non alziamo un po' la posta? Ecco. Ehi.